buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 4 4 gennaio 2024 chi è santo del giorno lo vediamo subito sfogliando l'almanacco ed eccola eccola sant'angela da foligno terziaria francescana visse nel tredicesimo secolo sposata con figli dopo la morte del marito si fece terziaria francescana e fu una grande mistica durante la sua esistenza andò più volte in estasi ed ebbe molte molte visioni che descrisse in un memoriale che tra l'altro contiene le lettere che angela spediva ai suoi figli spirituali quindi un libro che fu anche un maestro di vita poi per i secoli a venire questa è sant'angela da foligno del tredicesimo secolo e passiamo anche le previsioni del tempo continua per oggi il clima mite il cielo sereno un po su tutte le macchie con qualche velatura in prevalenza il cielo sereno poco nuvoloso per l'intera giornata la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi dicevo che ancora temperatura emite ma si profila all'arrivo del freddo e quindi nel weekend di edella befana le cose dovrebbero cambiare i venti saranno al mattino moderati al pomeriggio deboli le temperature 11 la minima come abbiamo detto 15 la massima e vediamo che il sole solgerà alle 7 e 41 e tramonterà alle 16 e 41 piano piano ci stiamo allargando per le giornate di luce ma insomma andiamo molto molto a rilento e vediamo subito l'apertura sul corriere adriatico che ci dà una conferma che insomma si preventivava ormai da tempo il centrodestra in cerca del suo candidato sindaco sembra che l'abbia trovata e il corriere adriatico dà per certa la candidatura di luca serfilippi che in realtà non aveva tanta voglia diciamo veramente come sta di candidarsi e beh è stato tirato per la giacchetta candidato sindaco serfilippi ci ripensa va a buon fine il pressing di francesco acquaroli del presidente della regione marche che in luca serfilippi aveva una grande fiducia e quindi lo ha convinto sembra mancano ancora pochi dettagli ma negli ultimi incontri questi si definiranno il centrodestra si affida al consigliere regionale della lega che tace però in attesa della ufficializzazione e luca serfilippi non ha mai parlato volentieri della sua candidatura probabilmente se ne stava tranquillo in regione ma nel centrodestra ci voleva una figura rappresentativa certo luca serfilippi lo è è giovane fa una consolidata esperienza infatti è entrato nel consiglio comunale a fano giovanissimo ha ricoperto anche la carica di assessore con la giunta a guzzi e poi è diventato con un una valanga diciamo così di preferenze consigliere regionale luca serfilippi dunque il nuovo in pista e la politica locale è attraversata dalla voce sempre più insistente che sarà lui il candidato sindaco unitario del centrodestra fanese e cosa farà cosa farà giuseppe de leo giuseppe de leo continuerà per la sua strada per me nulla cambia ha dichiarato androfino in fondo e alla fine considerate le scelte che saranno attuate mi riservo ad esprimere le mie valutazioni a tutto tondo improbabile comunque dice il corriere adriatico lo dice anche osvaldo scatassi che ha firmato questo articolo improbabile che de leo possa essere assorbito in una coalizione a guida serfilippi quindi serfilippi probabilmente sarà a guida di una coalizione che comprende la lega fratelli d'italia e ludici e poi vedremo se altri partiti si aggregheranno quattro mesi per eliminare il capanno di legno al pincio questa bruttura che da tanto tempo insiste nel magnifico contesto di porta maggiore una capanna posticcia che cela l'ingresso agli ambienti sotterrani che sono stati svelati che sono stati scoperti durante la ristrutturazione del pincio agli ecologici effettuati proprio all'ingresso di porta maggiore veramente sarà un diciamo così una struttura molto più bella molto più funzionale che però non sembra ancora permetta l'ingresso al pubblico come era stato promesso degli ambienti sotterrani sarà solo la visione e appunto dalla superficie 100 mila euro la spesa 100 giorni per realizzare questo progetto dalla consegna del quartiere e intanto è stato approvato il progetto quindi siamo un passo avanti rispetto al passato ed ora parliamo di questa bella iniziativa una bella iniziativa che riguarda un evento sportivo tradizionale che ormai si svolge da 11 anni al palazzetto dello sport salvatore alliende esattamente il 5 gennaio la vigilia della befana ed è il volley della befana il volley della befana è un torneo sui generis perché si confrontano delle squadre che non sono squadre agonistiche sono le squadre dei politici formata da assessori e da consiglieri di maggioranza e di minoranza guidati dal sindaco massimo seri che scenderà in campo poi abbiamo la squadra mista dei giornalisti e dell'avis la squadra dei preti la squadra di preti che presenta la grande novità della partecipazione del vescovo andrea andreozzi il vescovo andrea andreozzi con grande disponibilità e grande simpatia ha deciso di scendere in campo e di far parte della compagine che sfiderà le altre squadre ma c'è un'altra novità perché quest'anno abbiamo il debutto della squadra dei medici dei dottori che fanno parte dell'azienda sanitaria territoriale e ci saranno veramente dei medici molto molto noti per esempio non mancherà alberto patriti il primario di chirurgia con la sua equipe formata da domitilla foghetti paolo tescioni e stefan fares e poi ci sarà l'ortopedia presentata da rappresentata da francesca giovannini e angela vivoli la radiologia con alberto rebonat la medicina con daniele campanozzi lo torino da gino latini il pronto soccorso francesco lapadula e poi abbiamo francesco oricchio la senologia da andrea tinti la fisioterapia da lucia montesi la medicina d'urgenza da eleonora bracci la rianimazione da analisa silvestri beh insomma una bella rappresentativa di tutto l'apparato ospedaliero di pesaro fano che parteciperà a questo torneo ma ci saranno anche degli ospiti d'eccezione per esempio sarà presente il cantante moreno campione italiano di freestyle e poi ci sarà lollo marcantonini calciatore e panatleta i campioni del motociclismo marco gaggi e noel spangenberg il campione mondiale di volley andrea toffoli insomma sarà una bella serata animata che verrà così organizzata per solidarietà infatti il ricavato della serata l'ingresso è offerta sarà devoluto all'associazione simitu che raduna i pazienti che sono affetti da ferite difficili di difficile riamarginazione che hanno diritto a un percorso terapeutico diagnostico facilitato nei confronti dell'assistenza ospedaliera e questo è il fine che si propone l'associazione passiamo a fossombrone passiamo a fossombrone e vediamo il titolo che riguarda sempre la sanità l'ospedale resta sguarnito mancano i due medici previsti il disservizio sanitario registrato a fossombrone a cavallo di capodanno ebbene l'ospedale di comunità di questa città metaurense è rimasto per 48 ore senza medico né quello delle cure intermedie né quello dell'ambulatorio di continuità assistenziale primaria l'ACAP ovvero l'ex punto di primo intervento con una bella differenza a ribasso come struttura concepita quindi un disservizio che oggi il Corriere Adriatico pone alla ribalta Amarotta Amarotta ha ancora baby gang in azione ragazzini filmati i genitori non collaborano purtroppo spesso i genitori sono i primi a denunciare un fenomeno sociale di particolare rilevanza che furoreggia un po' nei quartieri e anche nei centri storici della città fanno per esempio non è esente da questo problema però quando il problema tocca all'interno di una famiglia ebbene i genitori si pongono sulla difensiva e non intervengono purtroppo sarebbero poi loro i primi a essere responsabili di quanto avviene per quanto riguarda poi l'educazione per quanto riguarda la cura di questi ragazzi bene l'intervento della polizia locale ma serve più collaborazione da parte dei genitori contro i vandalismi e dopo il raid della banda di ragazzini sbandati contro l'hotel Europa i residenti di Viale Carducci hanno chiesto e ottenuto un sopralluogo sul posto da parte della polizia locale di Mondolfo guidati dal comandante Ivan Donati ebbene il problema è molto molto sensibile e molto anche alla ribalta e ci vuole un po' la collaborazione di tutti non basta delegare il compito agli insegnanti, alla scuola, agli educatori, occorre intervenire anche a livello familiare all'interno delle famiglie e questa è una bella lezione che oggi ci dà Jacopo Zuccari su questo articolo del Corriere Adriatico. E passiamo a Senigallia, a Senigallia anche qui abbiamo le incursioni delle baby gang nella scuola, nella Pascoli per esempio la scuola Pascoli al lavoro dopo il blizze del ladro in arrivo le telecamere anti-intrusione. Dobbiamo tutelarci, ha detto il sindaco Olivetti, a volte i danni sono maggiori del furto, i danni che si compiano per entrare nei locali, si rompono i vetri, le finestre, gli stipiti delle porte, si fanno atti di vandalismo per rubare pochi, pochi spiccioli. Sopralluogo nei vari cantieri è stato effettuato nelle scuole cittadine e si parte appunto dalla primaria Pascoli presa di mira due volte in meno di un mese e poi si passa anche alle altre scuole. Voglio segnalarvi questa mattina anche questo articolo che proviene da Ascoli Piceno. Ebbene si è scoperto che Russell Crowe, il grande interprete del gladiatore, ha origini ascolane. Ebbene un suo avo, Luigi Ghezzi, lasciò il Piceno per andare a lavorare in Argentina e poi finì in Nuova Zelanda. Sappiamo benissimo che Russell Crowe è originario della Nuova Zelanda, però insomma le sue origini lontani in parte, almeno da parte di madre, furono ascolane e quindi abbiamo anche noi una partecipazione nella stirpe di questo grande, grande attore. Vediamo anche la pagina di Pesalo sul Corriere Adriatico dove si parla, vediamo qua, ecco, dove si parla dell'inaugurazione del nuovo auditorium di Via dei Partigiani, il vecchio Palace di Pesaro, non nella Vitifrigo Arena, ma il vecchio Palace che fu memorabile per tante partite di basket in passato. Ebbene dopo un lavoro molto laborioso, così possiamo definirlo, lungo, difficile, il nuovo auditorium sarà inaugurato anche quando verrà Mattarella. Lo show della tecnologia, la star della visual design, ridisegna l'auditorio. Chi è la star del visual design? Ebbene è Paolo Buroni, che vediamo qui in questa fotografia con i figli Alice ed Alex, suoi collaboratori, che ha realizzato un vero e proprio spettacolo per l'inaugurazione di questo nuovo contenitore. In pratica, che cosa accadrà? Verrà dotato il contenitore di spettacolari sistemi di videoarte e videoproiezioni a implementare una illuminazione scenografica di grande suggestione. Certamente dopo aver visto quello che è stato fatto all'interno della chiesa di San Francesco a Fano, sede di proiezioni eccezionali, molto suggestive di luci e immagini, pensiamo che cosa accadrà qui sulle pareti e sulle strutture del nuovo auditorium di Via dei Partigiani a Pesaro. E funziona l'effetto Mattarella, andiamo verso il sold out per la presenza del Presidente della Repubblica a Pesaro in occasione dell'inaugurazione, anche se praticamente l'hanno incominciato, di tutte le iniziative che riguardano Pesaro, capitale nazionale della cultura. Straccini, Silvano Straccini, direttore generale della Fondazione Pescheria, è soddisfatto, fino ad oggi sono stati assegnati 1.798 posti, perché ogni posto è nominativo, mentre sono ancora disponibili 905, quindi c'è ancora posto per chi vuole assistere a questo spettacolo. Provincia nei due palazzi, case e negozi. Un pool di architetti teme la distruzione. È stato assicurato dalla sovrintendenza che questo palazzo, che appartiene all'architettura del Novecento, non verrà dimolito. Però, insomma, gli architetti non si fidano e vogliono che queste cose vengano confermate. Sono quattro professionisti che lanciano un appello per salvare gli edifici di Viale Gramsci e dare stopa alla variante. Chi sono questi architetti che hanno firmato l'appello? Sono Alessandro Ceccarelli, Paolo Marconi, Achille Pajanini e Clara Tarca. Dicono che non si deve distruggere neppure il palazzo più recente, opera del noto architetto romano Filippo Sbardella, coadiuvato dall'ingegnere Leopardo Cioppi e dall'architetto Ceglio Francioni, entrambi pesaresi. E anche l'ordine degli architetti di Pesaro Urbino si è dichiarato assolutamente contrario alla demolizione perché i palazzi rivestono un valore storico per la città e quindi sono anche questi una testimonianza della nostra epoca. Va rivalutato lo status dei consiglieri a Pesaro. impegni e responsabilità non tetulà, non tutelate. Marco Perugini ha un anno di lavoro in aula nella sua attività spazio ai giovani e alla inclusione e qui vediamo Marco Perugini con i consiglieri dell'ufficio di presidenza. Ebbene Marco Perugini ha tracciato anche un consuntivo dell'attività consigliare e quindi ha dimostrato come il tutto funzioni e si vada avanti. E poi le croniche pesaresi che stamattina hanno anche un articolo che riguarda Federica Pellegrini diventata neomamma con la sua bambina a cui è stato posto il nome Matilde. Sappiamo come Pellegrini sia molto legata a Pesaro anche per i suoi trascorsi relazionali. Comunque questo è un articolo è nato a Matilde, è un'esplosione di gioia social impazziti per la divina e il papà. La notizia affidata a Instagram da Matteo Giunta in Controluce la fatica un parto non semplice, però insomma tutto si è risvolto nel migliore dei modi. Buone vendite per Natale, abbiamo fiducia nei saldi, è una dichiarazione dei commercianti urbinati che domani come tutti i centri della nostra provincia, un po' anche i centri italiani, vedranno l'affluenza dei saldi. Da domani i prezzi di capi di abbigliamento in modo particolare ma anche di altri articoli diminuiranno e quindi oggi magari si fa un'ultima visita nei negozi per addocchiare il capo che si vuole acquistare e vedere anche poi la differenza di prezzo. Ottimismo comunque tra i negozianti di abbigliamento nonostante la concorrenza delle commerce, la concorrenza online. E vediamo anche le aperture del resto del Carlino che si apre con il volley della Befana per numeri uno in campo il Vescovo e il Primario di Chirurgia. Vediamo qua Alberto Patriti in questa fotografia che con ironia partecipa alla gara sportiva. Monsignore parte avvantaggiato dice già da parte sua un sostegno che viene dall'alto e che è il massimo che si può aspettare. Ma ovviamente sono delle parole scherzose e vediamo qui anche in questa fotografia il Vescovo Andreozzi. Ecco qui viene inquadrato il tradizionale torneo benefico, si svolgerà domani alle 20.30 al Palazzetto dello Sport. Sacerdoti e dottori sfideranno politici e giornalisti per raccogliere fondi per l'associazione Simitu di cui abbiamo già detto. E a proposito di Clero vediamo qui invece una protesta. Al presepe di San Marco 7.000 visite ma non devo ringraziare nessuno ha detto Don Marco Polverari. Ebbene Don Marco Polverari ha espresso la sua amarezza in quanto non ha visto una grande promozione, un grande coinvolgimento dell'istituzione alla sua grande opera che è veramente un'opera eccezionale, un'opera forse unica non solo nelle Marche ma in tutta Italia. Un presepe che inizia dalla creazione del mondo e quindi veramente tutta un'esegesi biblica che viene rappresentata negli scantinati di Palazzo Fabri. L'amarezza di Don Marco artefici della magnifica esposizione nelle cantine di Palazzo Fabri. Mancano comunicazione e promozione ha dichiarato. Facciamo tutto da soli invece la città dovrebbe appropriarsene. E veramente grazie alla sua monumentalità, che stanno poi ci sono anche delle figure nuove nel presepe, è veramente diventata un'opera monumentale. così tanto grande che è difficile poi farla gravare soltanto sulle spalle di Don Marco o magari dal suo assistente che ha realizzato, anche lui un grande artista, perché poi ha fatto non solo le costruzioni scenografiche ma anche le pitture, in modo veramente molto 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 bello e molto professionale. Giriamo ancora la pagina e vediamo anche l'effetto dei botti e dei fuochi artificiali sugli animali di affezione. stress da petardi per cani e gatti in tanti si affidano ai calmanti. I veterinari confermano, ma questo non ha impedito il verificarsi di fughe il primo gennaio e molti animali sono scappati dai loro padroni, spaventati dai rumori che si sono elevati nel cielo. L'associazione Melampo, i nostri animali se la sono cavata, ma ne abbiamo recuperati ben tre fuggiti il 31 dicembre, quando poi è la notte di San Silvestro. Sant'Arcangelo, Sant'Arcangelo è ripartito il cantiere, lo stop è durato quasi due anni. Finalmente sono ricominciati i lavori per la trasformazione di questa ala del ex collegio in casa del Carnevale e in casa della Musica. Ripartito il cantiere dopo lo stop che è stato causato da un ricorso di una ditta che ha partecipato alla gara d'appalto e che non ha vinto. Poi si è proceduto al ricorso al Tar, al Consiglio di Stato, insomma tutte le trafile molto lunghe, molto laboriose della giustizia amministrativa e alla fine poi tutto si è risolto come era all'inizio, ovvero l'appalto è stato così dato definitivamente alla società che aveva già individuato il comune, avvinda all'inizio, quindi si è perso soltanto inutilmente del tempo. Passiamo alla Val Cesano. Da Cristicchi a Caterina Guzzanti si alza il sipario sui teatri d'autore. Nella Vallata del Cesano sono 14 gli appuntamenti distribuiti in otto scrigni d'arte e storia. Si inizia il 14 a San Costanzo con Dragogna. La guida per non perdersi pezzi forti in cartellone. In questo articolo vediamo le foto di tanti artisti da Caterina Guzzanti a Simone Cristicchi e Federico Dragogna e Pino Patruzzelli. Ebbene, il cantante Ti regalerò una rosa presenta Franciscus il folle che parlava agli uccelli. Franciscus ovviamente è San Francesco, sempre protagonista di musical e di opere d'arte perché il suo insegnamento è molto attuale, in senso anche ecologico, ambientale, umano, spirituale nei tempi nostri. Se Gambini si ricandida io lo appoggio. Parla così l'ex vice sindaco Guidi, ora segretario di azione, siamo ad Urbino, che descrive in un quadro di incertezza gli scenari di giugno. Il Partito Democratico dialogo anche con loro. Abbiamo delle dichiarazioni dell'ex vice sindaco di Urbino che si è dissociato, che è andato via dalla Giunta. E poi abbiamo anche un'iniziativa che fa un po' discutere. Un manifesto funebre per la morte di un criceto. Ebbene, capita anche questo. Manifesto funebre anche per il criceto. Scherzo gogliardico legato forse a una festa di laurea, solo che è vicino agli annunci di morte delle altre persone. E quindi questo ha lasciato molte perplessità. Vediamo qui con la foto di questo cricetino detto Gianni. Ebbene, ne danno il triste annuncio le proprietarie e coinquiline, le più sentite condoglianze da parenti e amici. C'è anche la data del funerale e poi la celebrazione avverrà in serata, secondo il rito di Vicoe. Ebbene, lascio a voi scoprire qual è questo rito di Vicoe per la morte del criceto. Vabbè, ci sono animali che vengono fatti eredi di sostanze molto molto ricche e anche i funerali per i criceti. E parliamo della Befana. Abbiamo qui anche oggi la nostra Befana, simbolo appunto della festa dei bambini. Vediamo se la regia la inquadra. Eccola qui, la Befana che viene di notte e porta una scuola tutta nuova, tutta nuova a Ferminiano. Proprio sabato si inaugura il complesso di Via Donizzetti. E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento, come sempre, a domani alle ore 7. e questa sera alle ore 20.30 per il Tg di Fano TV Occhio alla Notizia condotto da Pucci. Questo è tutto per il momento. A risentirci.